Diciamo che è un misto di disattenzione e sfortuna che va avanti da inizio anno e purtroppo non siamo riusciti a limitare questi errori e ne paghi le conseguenze. Poteva essere una vittoria importante perché contro una diretta rivale e con la quale avremmo potuto praticamente salvarci. Se avessimo affrontato così tutte le partite, soprattutto fuori casa all'inizio della stagione, a quest'ora saremmo stati un po' più in alto in classifica, avremmo potuto ambire a qualcosa di più importante. Probabilmente a due riusciamo a essere un po' più imprevedibili. Il gioco passa sia per me che per lui e magari riusciamo a dare maggiore fluidità alla manovra e essere un po' più pericolosi e incisivi davanti. Soprattutto anche magari con l'inserimento di Mirko sull'esterno. Però è chiaro che pure a tre a centrocampo penso che ci troviamo bene. Riusciamo a gestire le partite però magari siamo più incisivi con due esterni larghi. È una partita fondamentale perché dobbiamo cercare, come dicevo prima, di chiudere il più presto possibile il discorso salvezza. I tre punti diventano molto importanti anche per poi giocare le gare con più tranquillità. Loro vorranno comunque mettersi in mostra a giocare e sarà una partita come le altre. Noi dovremmo essere cattivi, approcciare la partita bene. E ti ripeto, è una squadra in salute, ma ancora è presto. Io penso a disputare le partite che mancano, cercare di fare il meglio. E poi a fine stagione si vede. Vice un altro anno di contratto, ne parlerò con la società e poi vedremo.